Cari amici, qualche tempo fa abbiamo ricevuto la richiesta da parte di alcuni cristiani locali di dare inizio una radio media web nella cittadina di Nazareth. Non potevamo assolutamente disattendere questo invito e, dopo i necessari sopralluoghi, abbiamo deciso che la cosa era fattibile e quindi andava fatta. Nazareth è una cittadina araba dello Stato di Israele, situata nella regione storica della Galilea. Conta 74.000 abitanti, di cui 31,3% cristiani e il 68,7% musulmani. Nell'antico villaggio di Nazareth ha avuto luogo il mirabile evento dell'annunciazione e dell'incarnazione, l'incarnazione del Figlio di Dio. Lì è vissuta la Sacra Famiglia di Nazareth e lì Gesù ha trascorso la sua infanzia e la sua giovinezza. Nella sinagoga di Nazareth Gesù ha annunciato la sua missione, citando il profeta Isaia, ma trovando l'incredulità della gente. Il Vangelo dice che lo portarono sul cielo del monte e cercarono di precipitarlo giù. Sul luogo della casetta di Nazareth sorge ora la bella basilica dell'annunciazione ed è in questo contesto che vorremmo fare alla Madonna il bel regalo di Radio Maria. I costi sono quelli di una sede e di una regia, che vorremmo realizzare nei prossimi mesi e comunque entro il 2018. Affidiamo alle vostre preghiere e alla vostra generosità questo progetto che ha un significato davvero speciale. Nella Vergine dell'Annunciazione, patrona di Radio Maria, riponiamo la nostra fiducia e la nostra speranza.